bene amici di tennis stars ci siamo anche oggi puntuali come da 27 14 quasi 22 puntate come vedete sottofondo sotto il la mia facciona vedete gli ospite di oggi che condivideremo facendo un ponte di applicazioni come ho già fatto con paulio canè e ancora un'altra persona siamo qui come sempre ho detto le 18 ringrazio sempre i soliti aficionados che ormai ci sono come dicevo anche agli ospite abbiamo quelle 30 40 persone che si stanno seguendo praticamente tutte le puntate dall'inizio spiega anche un pochettino cos'è questo progetto di sottoretta così lo sente anche flora nel frattempo vi ho già svelato il nome ma anche se sono sicuro che voi la conoscete già è nata l'idea proprio spiegavo lei io sono maestro no però lei non ancora non lo sa perché gli ho detto ma all'epoca ho fatto un corso di giornalismo di tennis con i ragazzi delle di super tennis che tra l'altro quel corso l'avevo vinta ma insomma era un corso per poi dopo collaborare con loro ma niente di di elevato ecco e allora ho detto dai ma perché adesso c'è questo periodo che stiamo a casa perché non facciamo qualcosa di utile a per tutti gli appassionati di tennis e parliamo di tennis ma non solo con giocatori allenatori attuali cioè quelli stanno giocando ma anche con personale del passato nel caso di giocatori e invece di attuali con persone che fanno parte del mondo del tennis quindi giornalisti telecronisti chi testa i materiali chi fa le fotografie i tennisti chi ha fatto l'arbitro chi fa chi scrive su un giornale chi fa preparazione atletica chi fa la video analisi chi ha scritto dei libri chi fa il mental coach insomma tutte le persone che ruotano attorno al mondo del tennis così nata l'idea di sottorete poi conoscendo fabrizio caldarone che il vice presidente della onlus tennis for africa abbiamo detto dai perché non condividiamo anche questa cosa del tennis for africa di aiutare ai ragazzini in africa con qualche soldino ma anche con del materiale usato quindi racchette palline eccetera e dalla minuta l'idea dai faccio un libro di tutte queste di questo periodo tutte queste interviste scriverò un libro si chiamerà zero quarantena e parte del ricavato lo doneremo ai ragazzi giù in africa e questo è il progetto poi pian piano se ho detto boh farò 10 15 interviste alla fine adesso ne ho interviste fino a maggio di talmente tante persone qualcuno mi ha anche scritto e potresti potresti invitare quello potresti inventare quell'altro come tra l'altro è successo oggi e lo dico fra poco nel frattempo nella chat metto il link della puntata di oggi perché ammetti che adesso avete visto che i dati di aspetta che chiamo il mio amico che venga a vedere la puntata quindi vi metto il link sotto da condividere come sempre ok ve lo scrivo proprio in diretta ok lo vedete qua sotto per chi sta usando ovviamente l'applicazione vi metto le coordinate di tennis for africa che quello che faccio sempre vediamo se le trovo da qualche parte qui ok eccolo qua con il link anche della onlus così le abete direttamente anche se so già che voi le avrete già viste salvate e anche usate e prima dicevo qualcuno mi ha detto ah ma sai che ha una bella storia potresti raccontare è uno di questi è patrice rimondeghi che mi fa ma perché non chiami lei che secondo me ha una storia veramente bella anche di vita da raccontare io la conoscevo di nome veramente come tenista sono andato un po a leggermi ho detto sì assolutamente la chiamo e quindi signori e signori come dicono gli americani abbiamo ospite con noi oggi flora perfetti grazie flora per essere con noi grazie a voi buonasera a tutti ok allora volevo prima di iniziare volevo ringraziare appunto pat che mi ha dato appunto questa opportunità per raccontarmi e volevo ringraziare lui grazie pat Sì veramente Pat poi mi ha dato anche il numero e poi mi ha dato un altro suggerimento di intervistare un'altra persona che è all'inizio era un po' incasinata con vari problemi ma oggi l'ho sentita e lo intervisterò penso non le prossima settimana ma fra due perché come ho detto ho parecchie persone da intervistare e che è Danilo Pizzorno che è il numero uno delle videoanalisi, anzi sicuramente qui in Italia, quindi ce lo avremo e sono veramente felice anche perché lui ha fatto un libro con Federico Candidi che l'avevo intervistato un paio di giorni fa e gli ho detto guarda proprio lui mi piacerebbe intervistare e di fatti ce l'ho fatta, grazie Pat. Allora Flora io direi se sei d'accordo di iniziare con raccontare un po' la tua storia quindi da quando da bambina quando ti è nata questa passione per il tennis che percorso hai fatto e poi quando è stato quel momento in cui hai detto ma guarda che questa cosa qua la farò di mestiere cioè che farò il da tenista professionista. Vai ti lascio anche la telecamera. Ok. Allora il mio approccio con il tennis era iniziato all'età di nove anni e giocavo contro questo muro di un magazzino e stavo ore e ore a colpire la palla mi piaceva veramente tantissimo. Al che i miei genitori che anche loro il sabato e la domenica andavano a giocare e facevano i doppiettiri decisero di iscrivermi alla scuola tennis presso Cia Paenza e così iniziò il mio percorso tenistico dove a livello diciamo juniores non è stato un gran non vincevo tanto praticamente lì conobbi il maestro Lassalle Errani che mi prese sotto le proprie vesti e mi aiutò mi orientò verso questo sport. Io avevo una caratteristica ero una bambina molto molto forte e lui decise appunto di farmi iniziare a fare i primi tornei. All'età di 12 anni ho giocato il mio primo torneo importante cioè l'andertendi però non andò molto bene perché mi ricordo questo particolare da in campo ero molto nervosa, ero una bambina abbastanza nervosa, molto agitata, volevo spaccare la palla, volevo vincere contro un avversario volevo insomma non riuscivo bene a gestire la partita e quindi diciamo che ero molto 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 nervosa e lui mi aiutò tantissimo fino all'età di 16 anni dove a 16 anni iniziai ad avere il primo diciamo risultato importante, vinsi il campionato italiano under 16 a squadre, io giocavo allora per il CA Faenza e vincemo questo campionato importante e da lì sono iniziate le prime domande ma forse posso fare la tennista forse ho qualche dote, all'età di 16-17 anni vicino a me era praticamente una persona che mi faceva da preparatrice atletica e anche lei mi spingeva e mi diceva che forse qualche carta nel giocarmi per diventare una giocatrice di tennis ce l'avevo ma diciamo che il mio trascorso è stato abbastanza lento i primi risultati sono venuti a 20 anni che ho iniziato a vincere i primi 10 mila dollari i primi 25 mila dollari, torni praticamente il P.F. giocavo prettamente vicino a casa, non ero tanto per andare fuori all'estero, ero solo vicino a casa il punto è che giocavo sia tornei Open che tornei IF e a livello Open i tornelli vincevo tutti e all'età di 20 anni ho vinto i primi tornei dove ti davano la classifica internazionale il mio tambolino proprio di lancio quando mi sono proprio accorta che forse potevo fare veramente latte mista è stato all'internazionale di Roma l'internazionale di Roma dove praticamente mi ritrovavo con una classifica 280 del mondo WTA questi punti li avevo presi facendo appunto questi tornei da 25 mila dollari che ne facevo ce ne erano tantissimi passati vicino a casa, non andavo neanche all'estero e questi tornei mi hanno dato la possibilità di avere questa classifica 280. anche ho fatto questa esperienza e mi sembra che sia stato nel 92, 91-92 andai a Roma a fare le qualificazioni, entrai in qualificazioni e vinsi la prima partita e per detti la seconda con Gloria Pissichini che fra l'altro Gloria Pissichini era la mia compagna di doppio io facevo doppi con lei, abbiamo fatto veramente dei bei tornei, abbiamo vinto dei 75 mila dollari a Scoleto abbiamo fatto parte all'internazionale di Roma perché oltre a giocare singolo giocavo anche il doppio perché mi piaceva da morire e come dicevo a Roma feci questo espluat battendo, no scusate mi sono persa un pezzo perdetti il secondo turno delle qualificazioni con la Pissichini e andai a casa io pensavo di aver perso e quindi che non potevo, allora non sapevo neanche che cosa fosse la Pissichini e io andai a casa convinta di aver fatto il mio torneo e mi telefonò Raimundo Recipitti che ringrazio ancora tutt'oggi e mi disse ma guarda allora perché sei andata a casa? Dovevi rimanere perché c'è la possibilità di firmare e allora io via 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 ritorno a Roma in macchina firmo e fortunatamente entrai al posto della Capriati perché allora la Capriati quell'anno si ritirò e entrai io insomma primo turno per farla breve perché sennò la facciamo lunga vinci contro Barbara Rittner, Barbara Rittner credo che sia la capitale della Germania e allora era 22 del mondo, vinci 6262, mi arrivò un mondo addosso che è inaspettabile io non ero preparata per tutta questa cosa, insomma conferenza stampa, tutti questi giornalisti mi facevano un sacco di domande, io ero veramente persa, non ero pronta per affrontare una roba del genere e il giorno dopo affrontai la Sabatini sul centrale e il primo set pagai il fatto di giocare nel centrale con la Sabatini perché non ero abituata e il secondo set me la giocai veramente, alla fine mi resi conto che dall'altra parte c'era numero 4 del mondo ma me la stavo giocando alla pari e da lì dopo ho iniziato, dopo ho perso il 76 secondo ho sbagliato una volere facilissima che magari mi portava al 37 insomma e da lì poi è partita tutta l'idea del fatto di fare la professionista e così è stato ok, bella storia, bell'escursus, nel frattempo io mi sono segnato già delle cose perché così ti faccio un paio di domande anche se ce n'è già una anche di Marcello che ti farò adesso al più breve ma mi ha tra virgolette colpito, cioè colpito, ho segnato il fatto da quando sei partita da bambina e mi è venuto in mente un po' il libro anche di Andrea Agassi quando parla del papà che gli aveva costruito la macchina il drago, la macchina spara paline, tu hai detto che giocavi tanto contro il muro siccome che so che adesso tu anche insegni, quanto è fondamentale tutt'ora ancora il muro e se è usato magari tu lo consigli o perché non vedo tantissimo muro ultimamente ma il muro, la cosa del muro è che la palla ti arriva veloce, ti arriva subito quindi devi essere pronta devi essere reattiva, prepararti e quindi quella è stata una cosa molto può essere anche utile, l'unica cosa è che adesso si potrei consigliare il muro anche adesso bisogna però stare attenti ad essere veloci per impattare la palla, si rischia di colpire la palla un pochino dietro infatti ai suoi tempi mi ricordo io colpendo così tanto la palla la colpivo un pochino dietro e quindi tecnicamente diciamo che ho sempre un po' avventato col diritto quindi il muro va bene per rimanere in movimento con le gambe, per essere pronti a ricevere la palla e lo consiglio anche adesso, anche alle mie pive delle volte gli faccio fare degli esercizi con la racchetta per riuscire a tenere bene il polso fermo e provare a esercitarsi sulla voler quello può essere molto utile sì poi tra l'altro in questo momento in questo periodo di quarantena a casa chi ha un muro lo usi perché sicuramente è il compagno ideale e poi non so se hai visto c'era una challenge che ha lanciato Federer dei palleggi vicino al muro con la racchetta quindi questo almeno potrebbe essere un divertimento ti faccio una domanda perché nel frattempo che raccontavi la tua storia ti faccio anche una domanda di Marcello perché è inerente e lui dice a prescindere dai risultati che hai ottenuto tardi ma nei primi corsi quando ero bambina quindi diciamo fino ai dieci anni si intuiva che avevi qualche marcia in più rispetto agli altri o eri diciamo nella norma sai che si vede se uno magari ha il tempo giusto come si pone se è coordinato o no oppure ti sei strutturata dopo? ma secondo me si intuiva il maestro aveva visto più che altro il mio fisico che ero già una bella bambina forte ti dico il particolare io facevo la verticale sulle mani a dieci anni ovviamente palleggiando sempre contro il muro avevo già un buon timing sulla palla quindi sì diciamo di sì il mio problema era più un problema emotivo perché la palla l'ho sempre colpita bene anche quando avevo dieci anni quindi secondo me il maestro se ne è accorto subito ok quindi era anche cioè tu hai detto questa cosa delle verticale come a segnalare che la capacità coordinativa c'era insomma cioè c'era di queste case sì sì avevo molto molto taglio sulla palla avevo molto molto inerzia molta 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 inerzia ok dopo nel frattempo mentre stavi parlando io mi sono segnato anche un'altra cosa l'hai detto tra le righe ma io ti ascolto e ti becco no nel senso che è stato un momento in cui hai detto sì in quel momento era 280 al mondo in quei 280 al mondo quei punti lì li ho fatti con i tornei quelli da 25 mila dollari ma qui e qua vicino a casa perché non andavo in giro all'estero quindi domanda hai girato poco fino a quel momento là diciamo l'Europa li facevi più che altri in Italia è stata una scelta tua per rimanere in Italia una questione economica che magari costava un casino all'epoca cioè come mai questa scelta di muoverti poco? ma un po' la scelta è dovuta anche al fatto che i soldi non ce n'erano tanti infatti poi mi sono sponsorizzata io da sola prendendo gli ingaggi del campionato io c'era il campionato di serie B prendevo due o tre soldini che con quelli mi sponsorizzavo è un po' anche perché io come persona ero molto legata alla famiglia alle mie radici e sinceramente se poi dopo ti racconto un episodio che ti metterai un po' a ridere e da lì capisci un po' come ero io forse la colpa è anche un po' la mia questo è stato forse il mio più grosso limite il fatto di rimanere sempre un po' vicino a casa e non andare all'estero quello sicuramente io tornei TF Juniors anche il 18 all'estero non ne ho fatti neanche uno quindi forse non ero pronta per fare questi tornei e forse anche il mio carattere mi portava a essere appunto un po' troppo radicata lì insomma in Faenza che Faenza è una città piccolina quello sicuramente è stato un limite tantissime persone mi hanno detto vai via, vai via, vai via devi andare, devi andare in un'accademia devi provare perché tu hai le carte per farcela io non me la sono sentita ho continuato il mio percorso a Faenza mi sono sempre allenata e ho fatto diciamo non dico tutto da sola ma pare io perché mi sono organizzati i miei viaggi i miei tornei ti racconto solo questa non mi ricordo l'anno però arrivai a 120-128 forse nel 93 non mi ricordo forse avevo 23-24 anni insomma entro nel tavellone della Staglia Open quindi voglio dire che esperienza bellissima vai a giocare di Australia Open vai a giocare un grande slam io ho voglia di partire di prendere l'aereo da sola per farmi 22-24 ore di aereo avevo voglia e allora cosa è successo? è successo che ho fatto di tutto per non partire e quindi ho fatto finta di non fare il visto e all'ultimo minuto vado in aeroporto non avevo il visto sono partita il mio allenatore è quello che non mi ha detto mi ha detto tutti i colori ma cosa stai facendo ma questa opportunità sei dentro il torneo dei grandi slam devi andare quindi per dirti quanto poco avevo voglia di andare via dopo andando avanti io ho fatto due anni che sono stata che ho giocato in PTA sono andata tre volte in Australia quindi dopo ci sono andata quell'anno quell'anno gli anni dopo ci sono andata per tre anni di seguito quindi dopo mamma che crescevo mi rendevo conto che che quel passo lì di andare di fare quella vita lì la dovevo fare per migliorarmi per andare avanti dovevo continuare ovvio che ero sempre da sola il problema era anche quello avevo allenatore a casa ma giravo da sola prendevo la mia corsa e giravo da sola e sono riuscita a fare il terzo turno mi ricordo anche agli USOP sempre da sola o da sola o con un'amica poi inglese parlavo ma parlavo il minimo indispensabile già quello era un altro limite grosso che avevo però nonostante tutto sono arrivata a 54 mi sono ritrovata a 54 del mondo ho detto cavolo sono 54 io ci credevo e quell'anno però l'anno che sono diventata ho preso i punti per andare a 54 del mondo mi sono anche fatta male e lì un altro errore maturale non ho bloccato la classifica sai adesso ci sono regolamenti dicamente c'hai la possibilità di fermare la classifica sei mesi per riprenderti fisicamente poi puoi ritornare in gara invece io via 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 avevo questa fretta di ritornavo perché volevo giocare internazionali di Roma però l'anno si torna i più importanti e lì ho fatto diciamo una gran tavola perché non ero non ero pronta avevo paura e quell'anno è andato via così per questo errore ti dico ho avuto questa 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 cosa purtroppo non ho avuto le persone vicine poi sono arrivata troppo tardi la federazione mi ha avuto questo solamente quando ero cento cento del mondo prima non mi ha mai considerato insomma perché perché oramai avevo già 23 anni loro guardavano le giovani una volta guardavano le giovani quelle quelle da 22 in su erano già vecchie e quindi aiuto da parte della federazione non ne ho bella questa storia che hai raccontato c'è delle che magari ti è mancata l'aiuto ma quello che mi sono soffermato nel frattempo a pensare nel frattempo che parlavi che si è parlato un po' anche nelle interviste precedenti che abbiamo fatto in questi giorni il fatto di l'importanza di avere uno staff che ti aiuti a a programmare la stagione secondo te questo poteva fare la differenza nel tuo caso assolutamente sì assolutamente sì c'è stato un momento che c'era una persona che mi voleva aiutare economicamente poi però si è tirata indietro perché c'era sempre il discorso che oramai avevo 27 anni e quindi si è tirata indietro volevo raccontare anche questa cosa certo con l'andare degli anni è rimasto dentro di me all'epoca penso mi mi incontravo con Silvia Farina e lei era nata per un argentino che si chiamava si chiama Lerta Lerta lui mi vide mi vide perché mi incontrai appunto in un torneo mi sembra Budapest se non lo ricordo esattamente e vinsi io lei era 40 io ero 60 vinsi io 6-1-6-2 e in quel torneo lì lui si avvicinò a me e mi disse guarda Flora io ti voglio allenare perché sicuramente se ti alleno io andiamo nelle prime ti porto nelle prime 20 ora io insomma rimasto un po' così ho detto sì va bene parliamone e ci siamo praticamente messi a tavolino per discutere di questa cosa e lui mi disse ok io voglio questo 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 quando mi disse la cifra io un attimino ho detto guarda scusa non me lo posso permettere per me sono tantissimi soldi e quindi da lì ho fatto retromarcia e diciamo non ho investito su me stessa non me la sono sentita di rischiare avevo messo un po' di soldi da parte ma non me la sono sentita di rischiare perché perché forse non credevo in questo allenatore e forse perché fino allora avevo fatto da sola e quindi ho lasciato credere però l'importanza assolutamente di uno stato dietro è fondamentale e adesso i ragazzi i giocatori insomma sono molto avvantaggiati sono molto avvantaggiati anche se Luca mi fa una cioè non è una domanda ma una riflessione e siccome si parlava anche questo negli altri giorni però quando sei intorno al 300 del mondo e anche adesso ok c'è tanta disponibilità di avere dello staff ma in parallelo anche uno staff costa quindi quanto si può da quando si può avere uno staff che giri con te e sai e sai perché dico giri con te perché nel frattempo che parlavi mi è venuta in mente la intervista che ho fatto a Sandra Cecchini è una cosa che vi accomuna e che mi è rimasta impressa proprio come proprio come vocabolo è solitudine anche lei è andata in America ha fatto il giro dell'America ed era da sola ci ha ricordato della Navratilova che è andata là e ha detto dai non preoccuparti vedrai che farai una bella carriera tu mi hai detto che giravi da sola quindi e questa è una domanda magari anche se c'è qualche giovane eleva che ci ascolta quanto è e si parlava ieri con Sara a bordo di questo della parte mentale quanto è fondamentale visto che lo facciamo già quando siamo in campo riuscire a stare da soli in questo in questo sport e in parallelo e nel stesso tempo quanto è importante avere qualcuno che sia con te secondo te allora secondo me è fondamentale però bisogna sicuramente abituarsi a stare da soli perché alla fine in campo sei da solo i problemi che devi risolvere diciamo da solo perché ci sei tu in campo ovviamente se hai qualcuno che è in simbiosi con te e ti può dare una mano sicuramente è un supporto in più insomma però questo è uno sport che ti deve abituare a stare da solo sì sono d'accordo questo me lo scrivo ti devi abituare a stare da solo eh sì perché in campo lo sei quindi prima hai detto una cosa quando parlavi della tua prima della vittoria che hai fatto agli internazionali che poi sei stata ripescata come la kill user hai detto ho vinto contro la mia compagna di doppio ma come affronti a livello mentale magari una partita con una persona con cui giochi ti aleni e poi devi giocarci contro per qualcosa di importante qualcosa che varia come riesci magari a saltare il fatto cacchio sto giocando con la mia amica magari mi secca proprio a tirargli quel colore cioè c'è qualcosa oppure vai oltre e dici è come se ci fosse dall'altra parte uno qualsiasi esatto no quando giochi con una tua amica magari la tua compagna di doppio tu devi andare in campo e non pensare che ce l'hai dall'altra parte devi cercare una tua concentrazione e focalizzarti sulla palla e basta devi entrare in una tua concentrazione dall'altra parte non devi vedere che ci sia la tua amica se no sei fregata ti dico questo perché c'è stato un anno che ho allenato una ragazzina che poi è diventata 2-1 e mi è successo di fare un torneo contro di lei però a livello open quando io poi ero molto più anzianota avevo 36 anni perché poi ho continuato a giocare fino a 40-41 anni anzi veramente gioca ancora le lady 50 quando tu pensi che dall'altra parte c'è o una tua amica o una tua allieva alla fine io ho fatto questa partita con questa mia allieva come ti dicevo e io mentre giocavo stavo vincendo tranquillamente a un certo punto ho iniziato a pensare a lei a quello che stava facendo lei e io la partita l'ho persa quindi quando vai in campo con un'amica in campo sei una giocatrice e quindi devi giocare per vincere e ti devi spalizzare sulla partita sul match poi fuori dal campo ho amiche ma dentro al campo non ti pensai che dalla capata sia una tua amica se no è possibile giocare allora ti sentiamo adesso ti sei rimossa di nuovo perché sei stato un momento che ti sei congelata come se avessi subito un ace e riferma immobile però adesso ti sei mostro di nuovo quindi bene ti abbiamo ripreso nel frattempo ma io non ti vedo però no no lo so che non mi vedi ma cerco di entrare poco sai perché perché così non ti rubo non ti rubo banda e l'importante è che si veda te più che me considerami in regia anche se non mi vedi ma ci sono sono vivo se non mi senti parlare allora forse chiamiamo il 102 no dai a parte a parte questo guarda vado a leggerti un paio di domande perché nel frattempo ne stanno arrivando e quindi cominciamo anche a dare un po' di voce agli spettatori siccome tu sei e fai l'istruttrice e mi dicevi la storia che ti aveva visto quel preparatore che ti aveva detto secondo me potresti fare la tenista professionista Leonardo ti chiede ma qual è il primo aspetto che prendi in considerazione osservando un ragazzino per dire dai questo potrebbe magari questo farà un po' più di fatica questo dobbiamo lavorarci un po' di più questo ha talento poi il talento ha mille definizioni quindi ma dopo magari me lo dici anche tu cosa intendi per talento ma io la prima cosa che guardo la volontà la passione se vedo un ragazzino arrivare alla borsa e inizia a correre si riscarla e vedo che è entusiasta allora abbiamo già fatto un buon passo quindi la prima cosa che mi viene da dire è la passione cioè vedere vedere un ragazzino che gli piace questo sport quello sicuramente è importante insomma certo se ci sente sì Patricio ci sta guardando e Patricio sono convinto che direbbe se lo vedo arrivare e la borsa gliela porta il papà già partiamo male non so se Patricio non so se Patricio è d'accordo ma sono sicuro che gli farebbe fare subito un po' un 10 flessioni così pronti via sono sicuro allora andiamo avanti vediamo cosa ci dice ah bella domanda di Giampaolo che fa una considerazione ma alla fine una domanda perché tu prima dicevi che sei rimasto in Italia tante persone dicevano ma vai in accademia vai nell'accademia e nelle altre interviste si parlava anche di questa cosa di andare nell'accademia Luca Pino cercava di portare le accademie cioè il suo metodo in giro per i paesi senza far sportare i ragazzi quindi lui dice allora quindi la gavetta tra virgolette si può fare anche in Italia e poi magari aspettare prima di andare in giro oppure meglio subito tuffarsi nei tornei non so agli ETF come dicevi tu prima cosa ne pensi? no secondo me uno volendo si può allenare bene anche in Italia non è necessario andare all'estero all'epoca mi dicevano così perché io venivo da una città come Faenza e quindi diciamo che c'erano eravamo un pochino limitati e quindi visto che questa scelta di andare via in America l'avevano già fatti altre altre giocatrici e quindi mi spingevano anche a me però secondo me si può benissimo allenarsi fino non so a 17 18 anni poi quando ti rendi conto che magari puoi fare qualcosa allora lì entri magari in un'accademia e inizi a lavorare in un certo modo però fino a 17 18 anni secondo me puoi allenarti benissimo anche a casa tua sì perché poi tra l'altro c'è sempre cioè non sempre è una mia una considerazione che faccio io c'è sempre la voglia di avere fretta cioè uno a 16 anni deve essere campione del mondo altrimenti non può fare niente non mi ricordo se proprio Patricio faceva questo esempio o non mi ricordo chi sul fatto che mi sembra anche lo stesso Tony a Nadal quando era andato fare un torneo junior gli aveva fatto leggere i nomi di chi aveva vinto e di questi chi sono diventati famosi nessuno quindi non è che se vinci un torneo junior poi diventerai fenomeno e vale anche ovviamente il contrario quindi questa cosa della fretta che hai detto tu uno può allenarsi in Italia tranquillamente anche fino a 18 anni magari non c'è o non ci dovrebbe essere non lo so è una mia considerazione allora andiamo a vedere qualche altra domanda ok ce ne sono due di Fabio prima dicevi che la federazione ha cominciato a vederti intorno a quando eri cento al mondo e che tendeva a guardare le giovani secondo te la federazione sta facendo abbastanza per rilanciare l'immagine del tennis sia maschile che femminile beh adesso ultimamente si aiutano un pochino di più rispetto al passato adesso ti tengono lì anche ti tengono in federazione tu puoi andare a allenarti se sei bravo in federazione fino a 24 anni io ho visto federico gaio che ha sfruttato questa cosa è stata a tirrenia ad allenarsi quindi adesso cercano un attimino di venirti più incontro anche se hai un'età che va oltre i 21 anni una volta ti tenevano lì fino a 18 poi se eri bravo bene se non eri bravo ciao ti salutavano anche questa cosa l'hanno capita l'errore della federazione l'hanno capita e stanno ogni anno migliorando per dare una mano agli italiani soprattutto anche a livello economico aiutano molto di più adesso assolutamente sì adesso so che ci sono dei bonus se sei bravino sei non so under 18 sei nei primi 300 sei di riconoscimento adesso non so esattamente la regola ma credo che se sei bravino una mano te lo diano se ci sono delle regolazioni sì sì è anche giusto che lo facciamo visto che la federazione deve promuovere e poi di riflesso lavora tutto il comparto se abbiamo più atleti abbiamo però a proposito di questo come la vedi tu il fatto che se solamente una questione io la chiamo di maree sai che ci sono le alte maree le basse maree che vanno scende e sale e il fatto che adesso le donne fanno un po' più fatica rispetto agli uomini gli uomini ne abbiamo parecchi ad alto livello le donne passato il periodo della flavia della roberta vinci si è un po' affievolito il movimento femminile il maschio è un po' tornato su è solo una questione di maree sì sì può essere può essere perché quando giocavo io eravamo in dieci forse mi sto sbagliando nelle prime cento sì sa di sì adesso sì dopo flavia e dopo la schiavone dopo la roberta c'è stato un attimino un buco però sono ottimista perché le ragazze stanno lavorando e quindi hanno solo bisogno di fare più esperienza e come ti dicevo ognuno ha il suo percorso e può essere che negli anni futuri vedremo risalire anche le donne sì un po' come nel calcio è successo alla Spagna che hanno lavorato 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 sui giovani e poi hanno sono esplosi e hanno fatto il boom di mondiali ed europei però tanti anni hanno lavorato diciamo di sottobanco per far crescere i giovani poi hanno il calcio spagnolo è esploso allora ma vediamo se c'è qualche domanda sì allora a parte Maurizio che si segnala sì giustamente ma non solo lui ma anche l'altro adesso te lo chiediamo allora siccome ho parlato con Paolo Canè che è di Bologna poi giustamente Maurizio mi segna anche Gaudenzi e di Faenza insomma l'area lì è buona è buona come mai secondo te l'Emilia Romagna è una regione che comunque ne ha scornati di campioni c'è un motivo è solamente un fatto casuale diciamo no non è un fatto casuale credo che quando hai un esempio un campione in casa poi dopo i ragazzini ci vanno dietro sono un esempio e quindi magari quello può dire tantissimo credo che l'esempio sia la cosa fondamentale per poi far crescere dei campioni e quindi a Faenza da Raimondo Ricci a Gianluca Rinaldini alla Raffaella Ricci alla Sara ai Rani che vabbè lei è di Mastron Barra sono tutti esempi quindi secondo me ragazzino se hai un esempio in casa è stato più stimolato ad avere un sogno quindi secondo me l'esempio di avere un campione portasi e poi ti costruisci degli altri bella sta considerazione che hai fatto adesso mi è venuta la voglia di intervistare un biologo del tennis ma non so se esista uno che studia il DNA no perché hai detto una cosa interessante nel senso che poi non so adesso dentro di un campo scientifico che non è mio e sono assolutamente zero però quello che hai detto tu io cerco di copiare il campione e magari ne nascono di più e nel frattempo magari la specie si adatta non so se esista una cosa del genere però sai magari poi assono di sfornare i campioni un po' come succede e io sono di Trieste nella vicina Slovenia tanti ragazzini seguono le orme e ormai anche parlando con Luca Pino che gira tanto il periodo del posto l'est Europa dice sì non è tanto una questione di ambientalità è proprio una questione di genetica che si sono strutturati in una certa maniera sono di far sport di seguire i vari campioni perché alla fine dei paesi degli ex Sudislavia a livello di squadre ma anche di sport singoli ricordiamo anche Ivan Isseris per esempio hanno sempre dato un qualcosa in più forse dopo può essere questa cosa qui che dici io ti seguo due ne seguono tre è una cosa che va avanti a catena diciamo potrebbe essere questa è una mia una mia riflessione che ho fatto da foglia in quarantena attenzione ok andiamo avanti sì prima mi sono permesso di darti del tu scusa mi è scappato ma sai assolutamente devi darmi del tu allora Marcello ti chiede quanto sarebbe diversa la tua attività di maestra di tennis se non avessi fatto professionismo ovvero sia ci sono dei vantaggi degli svantaggi se ci sono quali sono se fossi non ho capito la domanda cioè la tua carriera da tenista professionista ti ha fatto avere dei vantaggi oppure dei svantaggi nel fatto che adesso insegni no dei vantaggi il vantaggio può essere che posso trasmettere quello che ho fatto io a un ragazzino ma se io non avessi fatto la professionista avrei fatto la scuola maestri come tutti i ragazzi che vogliono intraprendere quella strada e sarei diventata maestra quindi non è che mi ha cambiato più di tanto il fatto che sono stata un'autopatrice ok nel frattempo sto non so se ho risposto alla domanda non so se la risposta che lui voleva sapere non so se magari lui adesso vediamo se mi diciamo se ecco vediamo che forse ce l'ha spiegata un po' meglio no ma vediamo se me la spiega un po' meglio sì magari forse lui intendeva nel fatto o te la giro io la domanda anzi te la giro io è necessario essere stato un giocatore di alto livello per fare i corsi di alto livello no assolutamente no come ti dicevo all'inizio per fare un maestro o fare il corso dipende da quello che vuoi tu dalla passione che hai tu se è una cosa che ti piace ti coinvolge non necessariamente devi essere stato un giocatore ovvio un giocatore ha vissuto delle cose che vive solo un giocatore però non è detto che un maestro debba essere un buon maestro debba essere stato necessariamente un giocatore ok il famoso non devi essere stato un cavallo per essere un buon fantino di Arrigo Sacchi che diceva questa famosa frase una domanda che ti faccio è quando sei entrato in campo con la Sabatini cioè prima prima di andare a giocare con la Sabatini cosa cosa fai nel senso un professionista sta da solo parla con qualcuno si guarda la tv cerca di concentrarsi avevi magari delle cose particolari che facevi sempre prima di una partita qualsiasi oppure in quel caso lì hai fatto qualcosa di diverso non lo so è una domanda che è venuta una curiosità adesso ma assolutamente quando hai un incontro perché oggi è notturna quindi serale alle otto e mezza di sera quindi sei tutta la giornata e quindi ti organizzi la mattina ti alleni un'oretta pranzo e ritorni in albergo fai una fermichella ti relaxi e poi aspetti un momento di entrare in campo ti organizzi con il mangiare che due ore e mezza prima mangi e poi mezz'ora prima ti riscaldi fai il tuo riscaldamento pre partita mi ricordo ancora cosa ho mangiato quella sera un pezzo di grana così e del prosciutto bello sta roba perché ti dico allora hai due a parte il pubblico quando sei entrata nel centrale e la vola è sbagliata a mezza altezza poi in terza fase c'è il grana col prosciutto come ricordo questo me ne assegno perché alle otto e mezza non rabbi un po' di solito sulle otto mangi allora non sapevo cosa dovevo mangiare cosa non mangio cosa non cosa cosa può andare bene vi ricordo il particolare del grano un pezzo di grano incredibile e un po' una gran bella esperienza giocare nel centrale al fuori taico poi la gente all'inizio come ti dicevo ho pagato il fatto di giocare nel campo centrale entri dentro questo campo che è enorme il primo set l'ho perso nettamente 6-1 il secondo me la sono giocata alla pari e avevo il pubblico dalla mia parte quindi tutta la gente che urlava e quindi da brivido veramente è stata me lo ricordo bene quindi noi noi parlavamo anche nelle puntate precedenti della parte del mentale e poi ti farò una domanda anche su questo perché magari all'epoca le figure del mental coach non c'erano ancora quindi i giocatori dovevano essere mental coach di se stessi secondo me ma quindi quando sei in campo in queste situazioni qua perché ti dice sai uno deve giocare quando gioca quando sei in campo devi isolarti e restare sul pezzo però tante magari in questa fase qui cioè in questo caso tuo isolarsi forse sarebbe stato controproducente perché invece volevi sentire il pubblico che era con te magari ti ha dato una spinta in più sentire le persone che ti favano per te piuttosto che isolarsi cosa ne pensi? no no sì assolutamente avere il pubblico dalla tua parte ti aiuta a un'esagerazione ti alza l'adrenalina cioè vivi vivi quasi in trance cioè il pubblico ha la sua la sua importanza cioè non sentire il pubblico nel centrale di fuori italico era quasi impossibile non sentirlo poi comunque tu da italiano ovviamente il tipo era a favore tuo anche se la sabatini ha detto che era comunque una delle giocatrici più conosciute proprio con Sandra ne parlavamo che all'epoca c'erano giocatori giocatrici incredibili proprio anche ma anche di spessore proprio come figure no di spessore avevi Navratilova le vedevi come delle idee le vedevi che erano quasi quasi impossibili infatti io credo di aver perso quella partita per questo obiettivo perché fisicamente io mi sentivo molto molto più forte mi ricordo che la sabatini uscita al campo era distrutta e tutti mi e io invece ero fresca con una rosa quindi io avevo fatto un allenamento mi ero allenata veramente tanto e come ti dicevo ero forte fisicamente e mi sono resa conto che se andavo al terzo set e se dall'altra parte non c'era la sabatini cioè nella mia testa non pensavo alla sabatini io ho perso perché dall'altra parte c'era la numero 4 del mondo perché se io non sapevo che era la numero 4 del mondo avrei vinto e quindi questo è un fattore psicologico che a giorni d'oggi ci lavori come intercoce ok allora dovevi un attimino arrangiarti quindi se non eri proprio molto forte e non avevi una forte personalità le prime non le battevi diciamo che il fatto che fossero così alte le vedevi così come delle irraggiungibili quelle che influenzavano anche un pochino in campo quindi non eri riuscivi a esprimere il tuo tennis come volevi perché eri influenzata questo è stato anche un limite mio mi sono resa conto dopo anche con la Linda Davenport che era numero 1 del mondo ho giocato 3 volte scusa 2 volte tutte e 2 le volte all'Australia Open e anche lì la differenza era che dall'altra parte c'era una professionista che praticamente giocava come doveva giocare e io non avevo una persona che in quel momento mi doveva dire guarda qui là c'è lei devi giocare così con lei invece questa cosa qui io giocavo mettevo il mio pilota automatico giocavo così non sbagliavo mai ero una giocatrice una contrapattante durissima da fare da farmi il punto correvo tantissimo giocavo un po' come Ferrer no? gran fisico insomma e quindi adesso mi sono persa nel discorso il fatto di di vedere queste figure così in alto e irraggiungibili a volte nel mio periodo ti condizionavano un po' quindi tante volte perdevi per quel motivo non perché dall'altra parte magari c'era una più forte di te io mi sono resa conto di questa cosa e ovviamente per fare il passaggio dovevo avere sicuramente persone di fianco a me che mi aiutavano a capire che potevo fare di più potevo batterle però insomma va bene così è proprio una questione proprio di presenza fisica nel senso che quando entrano in campo quando giochi con qualcuno di forte lo vedi enorme un po' tipo di cartoni animati che arriva il mostro da sconfiggere ed è sempre più grande è sempre più grande di chi lo deve risonfrontare è già meno 10 sei già sotto fatti già un svantaggio perché loro hanno un nome e hanno dei funzionaggi quindi questa cosa qui la patisci un po' in campo quindi ci devi lavorare ci devi lavorare credo che sia importante il mental coach eh sì sono sono d'accordo Gianpaolo fa una domanda su quello che stavi dicendo io entravo facevo il mio gioco e via nel senso non avevi per caso un piano B non è che magari ti ti accorgevi di ok qua giocando come gioco io non ne vengo fuori cambio no tu facevi il tuo no no va bene io fondamentalmente entravo in campo e facevo il mio gioco poi se vedevo che facendo quel gioco lì non vincevo qualcosa cambiava ok mi vedeva in automatico magari ristiamo a fare delle smorzate andavo a rete cambiavo sicuramente no no non è che andavo in campo se mi accorgevo che stavo perdendo per incasinare la partita esatto e anche l'avversario allora Maurizio ti chiede il tuo colpo migliore e quello meno sicuro il mio colpo sicuro o quello meno sicuro no allora ti chiede con una grandissima finezza secondo me il colpo migliore e dopo invece di scrivere il colpo peggiore ha scritto in maniera perfettamente linguistica il colpo meno sicuro quindi il colpo migliore qual è e quello meno sicuro allora il colpo migliore era il rovescio quello meno sicuro è il servizio perché il servizio è un colpo emotivo se non sei tranquillo la prima cosa che va a toccare il servizio almeno nelle donne quindi il rovescio sicuramente era il mio colpo migliore la smorsata e il colpo un pochino così è il servizio sicuramente guarda hai detto una cosa secondo me fighissima che valeva che vale il prezzo del biglietto perché hai detto che poi sì che poi il prezzo del biglietto non c'è perché sono gratuite queste interviste poi tra l'altro io le pubblico tutto sul mio canale quindi dopo se vuoi puoi darti a vedere anche le altre ma anche le prossime ma hai detto sta cosa fighissima che non l'avevo ancora sentita cioè che il servizio è un colpo emotivo figa tanta roba perché ti trema la mano il bracino il match point la palla break e stai servendo e questa cosa del servizio è un colpo emotivo è proprio bella vado a vedere altre domande durante la tua carriera da professionista andavi a leggere libri di tennis fisici mentali o seguivi solamente le direttive del tuo allenatore no 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 io ho letto veramente pochi libri di tennis quindi io ascoltavo il mio allenatore e andavo andavo avanti così ok quindi seguivi la linea in partita in partita ok allora marcello ci fa una domanda tecnica quindi ti fa una domanda da allenatrice sei concorda nel dire che nel tennis il colpo più naturale innato è il rovescio mentre il colpo da costruire è il diritto no non hai detto dipende nel mio caso sì avevo il rovescio naturale il diritto l'ho costruito ma dipende cioè che io ho visto tanti tanti giocatori che hanno meglio il diritto che il rovescio assolutamente no sì Giampaolo fa una una concordo su quello che hai detto perché sai poi dopo dipende magari più naturale a due mani a una mano diciamo che per mia esperienza quindi piccolissima mia esperienza perché io non ho sicuramente la tua e l'esperienza di anche tanti che ci stanno seguendo come Stefano che ringrazio gli facciamo che gli auguri per il compleanno patricio ma è un po' anche la predisposizione che uno ha ma soprattutto secondo me nel fatto del rovescio a due mani quando quando io vedo di insegnare anche i principianti tutti dicono ah ma pensavo che il dritto fosse più facile invece il rovescio mi trovo meglio certo perché hai due mani e hai più controllo da parte del dritto hai una mano sole poi dopo magari vedi quello che tiene la racchetta con due mani quello che gli viene da prendere subito la racchetta con una mano secondo me è una predisposizione singola sì sì è una cosa soggettiva soggettiva e gli viene meglio il diritto e quello che invece viene meglio il rovescio certo tu parlavi a parte che prima hai detto che giochi tuttora tennis quindi da quando hai fatto l'ultima partita diciamo nel torneio il circuito professionistico te la ricordi? allora io ho giocato l'ultimo anno che avevo ancora classifica internazionale ed è stato 2000 è stato l'anno dove giocavo benissimo ma proprio secondo me a 31 anni 30-31 anni sei al top cioè sia fisicamente che mentalmente senti qua vedi? secondo me poi posso anche sbagliare quell'anno lì ho fatto un anno strepitoso tra l'altro avevo fatto un inverno dove non avevo neanche toccato più la racchetta perché volevo un figlio poi ho lasciato il mio compagno che poi era il mio allenatore siamo stati insieme per otto anni poi lui io volevo insomma lavorare con lui poi alla fine ci siamo lasciati io per sei mesi avevo lavorato nel suo ristorante e ho ripreso la racchetta in mano l'anno 2000 ed è stato l'anno dove ho giocato benissimo avevo 30 anni e lì ho battuto anche Flavia Pennetta lei ovviamente era piccolina aveva 19 anni l'età che fra me e lei ci sono ormai 10 anni differenza ho battuto la schiavone e non tornei a un 25 mila dollari di Fano e quell'anno ero allenata dal babbo del mio primo figlio un marocchino si chiama Brainel Varteum l'anno lì ho giocato benissimo e lui mi disse guarda Flora gioca perché stai giocando benissimo continua che ti porti su di nuovo nelle prime 50 io lì praticamente mi sono fermata perché gli ho detto no basta io voglio un bambino e dopo è subentrata la voglia di avere la famiglia di avere un figlio di avere queste cose da donna insomma certo e quindi fino a 30 anche 35 se stai bene fisicamente puoi giocare tranquillamente puoi giocare alti livelli sì 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 ma io sono andato sul sito della VTA per vedere se c'erano un po' di statistiche tue e come ultima partita mi davano un doppio contro con Gasparri contro la Zanchetta me lo sono scritto e la Giovine sai perché me lo ho scritto perché la Giovine l'ho sentita oggi che la devo intervistare anche lei quindi gli chiederò di questa partita con la Claudia una domanda che ti voleva nel 2000 nel 2000 nel 2000 assolutamente sì una domanda che ti volevo fare era poi io ho letto anche un po' la tua storia ma me l'hanno anche raccontata e poi nella tua vita hai dovuto superare una partita più importante di giocare a tennis ma senza andare troppo nel dettaglio quello che ti chiedo è nell'affrontare quella situazione lì quella quella cosa che ti è successa a livello fisico quella malattia quanto importante è stato il tennis cioè l'approccio mentale non so il fatto magari di fare qualche sacrificio di non mollare di andare a prendere anche quella palla che sai che dopo verrà smessata facilmente quanto è stato importante per te questo ma è importantissimo sono sempre stata una persona che non ho mai mollato non ho mai mollato una palla non ho mai mollato una partita sempre dato il 100% sono sempre uscita dal campo con il calzino rosso quindi quando ho affrontato quella malattia lì lo sport e il carattere nuovamente sono venuti fuori per fortuna perché insomma quella è stata diciamo la partita più grande che ho dovuto affrontare guarda ti ringrazio perché per questa cosa qui perché io quando sento queste storie di persone che escono mi fa veramente sempre un po' di sensazione soprattutto nel periodo di adesso che tante persone ci stanno lasciando per una cosa non solo ci stanno ci ha affermato una cosa che è invisibile e che se uno me lo diceva a dicembre sai che in aprile starai a casa ma sei fuori nel 2020 e invece siamo qui in casa ma hai detto una cosa bellissima e che e che molto probabilmente la farò come titolo del blog perché poi io insieme ad Erika che mi dà una mano e scriviamo un po' il riassunto di queste interviste e credo che il titolo sarà esco con il calzino rosso perché hai detto questa cosa che io uscivo con il calzino rosso e mi è veramente piaciuta tanto allora vediamo se c'è ancora qualche domanda e poi ti lascio andare così andiamo tutti quanti a cena anzi no dopo trovare a farmi la domanda per l'ospite di domani l'ospite di domani che è non so se lo conosci Gianfranco Omenga uno che organizzava viaggi stage di tennis in giro per l'Italia ma che ha lavorato anche con Gaudenzi con Camporese che tra l'altro Camporese è anche Romagnolo quindi siamo ancora lì torniamo sempre lì la Romagna ha sfornato dei campioni eh sì allora Stella Maimone ti chiede quanto è importante la preparazione atletica e ti dico all'epoca tua e da adesso cosa hai anche cambiato allora l'epoca mia era molto importante ma ancora più importante adesso adesso il tennis è cambiato è molto molto più fisico rispetto a una volta è quasi più importante l'atletica che il tennis io darei più importanza all'atletica che il tennis quindi è fondamentale ma senti te che noi in po' importante hai detto l'atletica che il tennis quindi facendo diciamo dammi una percentuale tra queste tre aree atletica tecnico tattica e mentale adesso allora mentale direi il 60% tecnica tattica il 20% e quell'altro cosa hai detto la prima l'atletica ti resta un altro 20% no allora no cambia 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 l'atletica è molto importante però molto più importante è anche la testa che poi il fisico va con la testa se stai bene fisicamente stai bene anche con la testa quindi vanno tutti due molto insieme quindi farei farei sempre 60 60 30 10 60 30 10 o sennò solo per oggi sennò solo per oggi in offerta qui a sottoretta ti do la possibilità di arrivare a 120 20 così dai allora vedo che le domande sono finite così ma forse qualcuna me ne è sfuggita e chiedo scusa perché devo seguire un po' di qua e di là faccio un po' fatica ma Maurizio ti fa i complimenti io direi intanto di tutto ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità come ogni intervista io mi arricchisco sempre di qualche chicca che alla fine in quel libro che farò saranno tutte riportate perché secondo me quella dei calzini oggi ne ho quella dei calzini e i calzini esco sempre con i calzini rossi e il servizio è un colpo emozionale che penso che non l'ho mai sentita è veramente figa no veramente veramente bella devi sentire sempre qualcosa assolutamente sì assolutamente sì ma io dico sempre bisogna ascoltare anche le persone che magari non fanno parte del tuo campo perché magari ti danno un input o qualcosa che puoi portare nel tuo campo quindi sempre ascoltate qualcosa di diverso allora domani ho Gianfranco Menga che è tecnico nazionale eccetera eccetera ma ha fatto tantissimi stage in giro ha lavorato anche nell'accademia di Barcellona ma faceva tanti tanti eventi in giro per l'Italia anche per il mondo tipo stage di tennis hai e ha lavorato con dei campioni quindi con Seppi con Camporese con Narciso con Gaudenzi hai qualche curiosità magari da chiedere a uno che organizza queste cose in giro per l'Italia con personaggi famosi di tennis l'ha fatto anche con me ma non ero io il famoso c'è la domanda di riserva no oppure anche se vuoi qualcosa del tennis o come maestro anche lui è maestro magari non so qualcosa di tecnico adesso non mi viene in mente potrei chiedergli quante ore bisogna allenarsi col servizio quanto è importante il servizio adesso vabbè il servizio è importantissimo però quanto tempo dedica il lavoro del servizio ok glielo chiedo glielo che la domanda la 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 espanderò anche se sapeva quando parlava con quei giocatori durante gli stage se gli raccontava quanto tempo si allenavano al servizio oltre a quanto lo allena lui oh allora io direi che ah ecco ultimissima di Renzo che carina come domanda poi andiamo a mangiare nel corso degli anni il tennis femminile e quello maschile si sono evoluti in uguale maniera o c'è stato un salto diciamo di di evoluzione o sono andati paralleli nell'evoluzione quindi oltre le racchette e i materiali anche come gioco come velocità di gioco ma eh sì come velocità di gioco adesso eh col fatto che abbiamo delle racchette dove puoi spingere un po' di più la palla sicuramente si è evoluto di parecchio la palla va più forte e la tecnica dei movimenti sono cambiati e quindi sì assolutamente sì si è voluto proprio perché la palla va veloce abbiamo racchette più veloci sì quindi sia maschi che femmine sia maschi che femmine si sono evoluti diciamo di pari passo tutti e due hanno accelerato sì anche la preparazione fisica ok bene Flora io ti ringrazio ti lascio andare a mangiare o a fare da mangiare scusa abbiamo già pronta la cena è già pronta la cena no no devo andare a cucinare io ok cosa si mangia questa sera non lo so bistecchina sicuramente con insalata bene proprio da atleta un po' di piadina e un po' di piadina con lo scuoccherone hai mai sentito scuoccherone della romagna lo hai mai sentito sì assolutamente sì ma magari forse l'originale l'ha non l'ho mai mangiato ma siccome che ho detto che alla fine di questo periodaccio io vorrò andare in giro a conoscere tutti quelli che ho intervistato qualcuno li conosco già di persona magari qualcuno no come te di persona no verrò a trovarti e aspettami con lo scuoccherone ma l'originale assolutamente sì ok ci aspetterò va bene grazie mille flora un abbraccio virtuale saluto a tutti i partecipanti noi ci vediamo domani come sempre al 18 con Gianfranco Menga siamo venerdì sabato ci sarà Claudio Pistolegi dalla California perché lui in California sì e domenica che è Pasqua invece facciamo una pausa nel senso non ci sarà nessuno intervistato ma chi vorrà entrerà dentro sempre alle 18 e parleremo fra di noi per conoscerci fra chi sta seguendo questa 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 diciamo questo progetto e magari anche per conoscervi fra di voi se qualcuno si vuole aiutare se siete vicini di Circo se volete creare delle collaborazioni e anche questo un mio intento cioè di conoscerci fra appassionati e magari creare qualcosa di nuovo assieme ma non solo con me ma anche fra di voi che state seguendo ok grazie mille ciao Flora e buona cena e buon scopperone ciao a tutti ciao 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 a tutti e buon scopperone